Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi come sfidanti vi porto Adi Chopin nella versione del 2019 al suo primo Mr. Olympia contro Kevin Levroni all'Olympia del 2000, anno in cui arrivo al secondo. Partiamo subito. Prima posa, front ball bicep. E guardate la differenza che c'è tra le gambe. Adi Chopin ha delle gambe veramente grandi, mentre Kevin Levroni non può dire lo stesso. Di braccia forse leggermente Kevin Levroni sono più grandi. Dorsali, lì si intravedono poco a Kevin Levroni e leggermente anche Adi Chopin. Il pettorale di Adi Chopin è molto grande. Appunto lo darei qui a Adi Chopin, ma qui sono in contrasto due ore differenti del bodybuilding. Qui Kevin Levroni è diciamo ancora uno stile classico, mentre qui Adi Chopin è uno stile mass monster, uno stile con grande massa muscolare. Quindi il punto io quello darei ad Adi Chopin. Prossima posa, front lap spread. E guardate la V-taper che tiene Kevin Levroni. Spalle veramente rotonde. Gambe, forse anche qui leggermente troppo piccole rispetto alla parte superiore del corpo. Braccia molto rotonde. La foto è un po' sgranata, ma si riesce a capire comunque che tiene ottima la posa. Adi Chopin invece. Spalle, soprattutto quella destra, non è molto rotonda, ma va molto ad angolo la spalla destra. Le braccia sono piccole, i dorsali si intravedono. Gambe, veramente molto grandi, cazzo. Quasi anche troppo, però sono ben separate e tutto. Vita, un po' larghina. Il punto lo qui lo darei però a Kevin Levroni, perché Kevin Levroni tiene molto bene la posa. Ha una bella V-taper. Spalle belle rotonde. Quindi il punto lo darei a Kevin Levroni. Prossima posa, side chest. E qui, però di Chopin, non è la migliore delle pose. Il suo pettorale non è molto enorme. Le braccia, le spalle, ok, sono grandi, ma il pettorale un po' fiappo. Non è bello in pump, è bello solido. Cosa opposta invece per Kevin Levroni. Il pettorale è bello in pump, grande, con le striature delle fibre muscolari. Guardate le braccia di Kevin Levroni, sono veramente molto grandi. Quindi il punto qui lo darei a Kevin Levroni, perché qui a Di Chopin non è che sia un fenomeno nel side chest. Prossima posa, side tricep. E questa è veramente difficile. Abbiamo due tipologie di side tricep veramente simili. A Di Chopin mi sembra più separato. Ha dei tagli più profondi, il precipito è ben separato. Anche Kevin Levroni, però a Di Chopin mi sembra più tirato rispetto a Kevin Levroni in questa posa. Tiene anche bene l'addome e tutto. Il punto qui lo darei a Di Chopin, ma sono veramente molto molto simili. Scrivetemi voi nei commenti chi aveste preferito. Prossima posa, back double bicep. E qui entrambi non hanno delle back double bicep così bellissime. A Kevin Levroni manca totalmente il lower back. Il lower back è completamente inesistente. Ha una buona densità muscolare, ma gli manca il lower back. Glutei, ma anche gli mancano un pochino. Sono poco striati, femorali buoni. Polpacci da questa angolazione non si vedono perché ci sono le luci. Invece a Di Chopin gli manca una buona densità muscolare, ma gli manca la separazione. Gli manca un po' di separazione. Glutei ottimi, anche femorali. Polpacci anche, spalle grandi e bicipiti anche. Il punto qui lo darei a Di Chopin. Ma a Di Chopin... Eh! A Di Chopin gli mancano un po' di separazione muscolare. Prossima posa. Back let's bread. E questa è veramente dura. Qui il punto io lo darei a Kevin Levroni. perché ha una migliore separazione muscolare, soprattutto nel lower back. Trapezzi sono veramente molto grandi. Spalle rotonde. Glutei qui, leggermente più striati della posa precedente. Anche i femorali. Guardate, guardate i femorali che ha. Veramente ottimi. A Di Chopin, anche qui, un buono. Guardate il lower back di A Di Chopin. È veramente enorme. Forse gli mancherebbero un po' più di trapezzi. Un po' più di densità sui trapezzi. Qui il punto lo darei a Kevin Levroni. Perché Kevin Levroni è uno dei migliori let's bread della storia. Prossima posa. Abdominal e one thigh. E questo è veramente difficile. Guardate il vasto laterale di Kevin Levroni. Quanto è striato, quanto è irrigato. Addominali li tiene bene. Sono ben separati. Tagli profondi. Però il punto io lo darei a Di Chopin. Perché in questa posa si vedono gli obliqui. Ma si possono intravedere anche gli addominali. Sono veramente molto grandi. Ben separati. Tagli ben profondi. Anche le gambe sono veramente grandi. Guardate la separazione muscolare che tiene le gambe. Quindi il punto che io darei a Di Chopin. Perché io, non so perché, gli addominali di Di Chopin li adoro. Perché li tiene molto bene. Sono quadrati, proprio su una forma di quadrato. E riesce a tenerli molto bene. Quindi il punto a cui io darei è andare a Di Chopin. Prossima posa. Mush muscular. Qui a Di Chopin sta facendo un misto tra crab mus muscular e il classico mus muscular. Non è bellissimo da vedere, ecco. Guardate invece Kevin Levroni. Che spalle che ha, mamma mia. Kevin Levroni ha una o forse lei. Migliori spalle della storia del bodybuilding. Guardate quanto sono enormi e rotonde. Mamma mia. Molto ben definito. Pettorale in pump. Braccia grandi. Di Chopin qui. Non mi sembra granché, onestamente. Quindi il punto io lo darei a Kevin Levroni. Qui siamo con il punteggio di 4 a 4. E quindi termina in un pareggio. Io se dovessi scegliere, sceglierei Kevin Levroni. Perché è uno dei miei bodybuilder preferiti. Ditemi voi invece nei commenti chi vorreste, chi preferite, come vincitore. Noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao. Ciao.